Ciao amici Mari stasera allora dobbiamo usare un pochino di alcol per festeggiare Ha comprato un cavallo Compro un cavallo Ma non l'hai già preso Mari da altre parole No sì, li porto bene E viene a rompere i coglioni nel mio manetto Allora Io sto cercando di avere un mio scopo Comunque Io non mi sono mai fatta vedere Sono solo la mia voce A me conoscono già E' il primo video in cui appai tu Perché c'era l'ultimo con Franci Poi qualcosa con Sofi Comunque io sono Emma E' Emma, lei e Sofia Poi Francesca c'era prima Stasera mangiamo la pizza per festeggiare Cautiva Cautiva Però chi è? Allora In pratica Ha preso un cavallo Detto molto Detto molto Come ho fatto a convincerli Con l'impegno a scuola Nel senso Ultimamente mi sono impegnata un casino Appunto per meritarmi sto cavallo E poi bisogna anche sapere Bisogna anche saper gestire un cavallo da soli Se vuoi davvero meritarlo Avevi già comunque un cavallo Quindi lo sapevi già gestire Esatto E quindi Però questo è il mio primo vero cavallo La mia prima vera cavallo Eh sì Devi dire che Sono 8 anni Che tipo di No Ne ha 7 È una spagnola Appunto Avevo il libretto ma l'ho messo al maneggio Perché serve per fare la Metterà una foto comunque Poi la spostiamo in maneggio Non so quando Perché sì È una spagnola Ha 7 anni Il 17 Ma come te Sì Il 17 come me Che cosa carina Però tipo luglio Agosto Mi ricordo 2013 Quindi ha 7 anni Così 8 È piccolina È un po' un diavoletto Però mi ricorda a me Quindi io l'amo È un po' una testa di cazzo Quindi mi ricorda a me Allora a me piace Perché A mia mamma fa paura Perché pensa che possa uccidermi Ma anche Michael Aveva pure anche di Michael No di Michael no Non aveva paura Quando mi ha dato i video Quando mi era da sola Attenta Renato Mi punta Mi punta Renato Renato Muoio Quindi sì Ciao Ciao No Bacino Ciao 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 Sto tremando Che poi è successo tutto così velocemente Ce l'avete comprare in due giorni No Sto tremando Allora Stanno portando la cavalla in maneggio Dobbiamo arrivare in tempo Quindi abbiamo fatto tipo Una corsa per qui Dovevo cagare Tu mi hai chiamato E' cautiva Ma dove Oh shit è già arrivata Vediamo dopo Madonna io ti ammazzo Ciao 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 facciamo conoscenze ti piace? guarda che lui è simpatico ma come sono carini è anche un bonaccio stiamo lavando la cavalla della francia ma non ti voglio bagnare infatti stai aprendo l'acqua comunque sono freddice pure io in faccia l'acqua brava, mi stai già rimuovendo boh, che tirate vista? brava, mi stai rimuovendo brava, mi stai rimuovendo